Una spiaggia accessibile a tutti, unica in Italia. L'inaugurazione oggi a Montesilvano di Mari Senza Barriere, una porzione della spiaggia libera attrezzata per consentire, anche a chi è in carrozzina, di godersi il mare in autonomia. Abbiamo realizzato un sogno. Lo dicevo prima, abbiamo lavorato sulle barriere culturali, le abbiamo sgretolate e, lavorando sull'ambiente, abbiamo reso una spiaggia completamente accessibile, dove le persone con disabilità possono godere della spiaggia e del mare. Qui abbiamo tutti i comfort, abbiamo il gazebi, abbiamo l'ombra, abbiamo le palme, abbiamo le docce dedicate, bagni di lusso, parcheggi dedicati con i custodi. Senza questa spiaggia le persone con disabilità non potrebbero godere del mare. E quindi è questo che abbiamo, ecco perché abbiamo abbattuto la diversità. Questa non è di certo la sola spiaggia abruzzese accessibile ai disabili, ma così organizzata rappresenta un unicum. Comodi bagni, gazebo per l'ombra, una passerella fino alla riva e nove nuovi parcheggi per portatori di handicap lungo la riviera. I membri dello staff, per cettori del reddito di cittadinanza, provvederanno a sanificare bagni e sedie e assisteranno ai visitatori per otto ore al giorno, da lunedì alla domenica fino al 10 di settembre. Montesilvano si propone come una meta turistica anche per i disabili, ha detto soddisfatto il sindaco De Martinis. Sono anni che Montesilvano è dotata di non soltanto una, ma due spiagge accessibili. Ma quest'anno abbiamo migliorato come programmato e come promesso in passato con questa spiaggia, rendendola unica a livello regionale e probabilmente anche a livello nazionale. Ci sono tutti gli ingredienti per poter essere felici e per poter dire che Montesilvano si accredita quale una delle spiagge delle località più importanti della nazione e quindi si accreda come meta delle vacanze di chi ha affetto di disabilità o chi in famiglia ha nel proprio nucleo un componente affetto di disabilità.